La procura distrettuale della contea di Norfolk e Climot l'hanno rappresentata la incrimina formalmente Bartolomeo Vanzetti di duplice omicidio e rapina in concorso di Nicola Sacco e di altri ancora gnoti. Ricordatevi la vostra promessa, avvocato. Niente politica. Niente politica. In aula naturalmente. Socialista? No signore. Sindacalista? No signore. Sto soffrendo e pagando perché sono anarchico. E mi sono anarchico. No signore a cambiare testimonianze. Lei fa finta di non credere che la polizia, il giudice, il governatore, i ministri siano tutti d'accordo nel volere una condanna ad ogni costo. Non si avrebbe il diritto di ammazzare neanche un cane in base alle prove presentate al processo di data. E io torno a ripetere che la società nella quale ci costringete a vivere e che noi vogliamo distruggere è tutta costruita sulla violenza. Liberà, liberà! Liberà, liberà! Direi io signore, signor Vanzetti. Noi che cosa dobbiamo salvare allora? L'uomo o il simbolo?